Nella città di Sciacca ieri ci sono stati altri otto casi di positività al covid. Si tratta di persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni ma contestualmente ci sono state anche sette guarigioni. Il numero complessivo dei positivi è di 73 persone invariato rispetto al precedente bollettino dell'ASP. Migliora la situazione a Ribera dove ci sono stati altri 17 guariti e adesso il numero complessivo dei contagiati è di 168. Buone notizie anche da Cattolica Eraclea dove dai 76 positivi di lunedì si è passati ai 67 di ieri. Tornano invece ad aumentare i casi a Menfi dove quattro nuovi positivi nelle ultime ore hanno portato a 14 il totale delle persone contagiate. 18 i positivi a Sambuca di Sicilia, 45 a Santa Margherita Belice, 22 a Siculiana, 2 a Villafranca Sicula, 147 ad Agrigento, 10 ad Alessandria della Rocca, 3 ad Aragona, 22 a Bivona, 9 a Burgio, 6 a Calamonaci a Caltabellotta, 2 a Cianciana, 11 a Comitini, 90 a Licata, 37 a Montallegro, 10 a Montevago, 54 a Porto Empedocle, 11 a Racalmuto, 72 a Raffadali, 42 a Ravanusa. Scendono ma molto lentamente i casi positivi a Canicattì dove adesso sono 287, Favara 201 e Palma di Montechiaro 196, comuni tra quelli più colpiti dal Covid negli ultimi tempi insieme alla città di Ribera. Sono stati 47 su 698 tamponi i casi positivi registrati ieri su tutto il territorio provinciale con una percentuale del 6,7%, 7 i nuovi ricoverati e 135 ai guariti. I posti letto occupati in degenza ordinaria Covid sono così distribuiti, 46 al San Giovanni di Dio, 14 al Fratelli Parlapiano e 10 al Giovanni Paolo II, 8 i ricoverati in terapia intensiva da Agrigento, 4 a Sciacca. A livello regionale ieri sono stati 1.148 i nuovi casi di covid accertati in Sicilia su 25.779 tamponi processati che hanno fatto scendere il tasso di positività dal 7,8% di lunedì al 4,5. Nell'isola sono aumentati i decessi, altri 36 rispetto ai 10 del giorno precedente. Il bilancio delle vittime sale così a 5.208. Sul fronte dei ricoveri si registra un leggero calo nei reparti di degenza ordinaria dove sono 1.255 i posti letto occupati, 7 in meno rispetto alle precedenti 24 ore, ma ci sono altri 4 pazienti nelle terapie intensive dove adesso sono 180 i soggetti ricoverati. La buona notizia riguarda i guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.535, significa più del doppio dei 1.148 nuovi casi. Adesso i soggetti positivi in Sicilia sono 24.899, di cui 23.464 in isolamento domiciliare.